Siamo arrivati alla piazza della città vecchia, Renextaregomiacca, circondata da palazzi che fondano gli stili rinascimentali e barocchi e anche elementi gotici e neoclassici e con l'eccezione dei numeri 34 e 36 tutti i palazzi sono stati ricostruiti dopo la seconda guerra mondiale. Si nota come sia molto più piccolo di quello di Cracovia? Decisamente, insomma l'unico di Cracovia è molto più grande, colpisce di più. Sì, è chiaro, c'è un'atmosfera più autentica indubbiamente a Cracovia, ma comunque qui noto, ecco, sto leggendo anche sulla guida, che al centro c'è una statua, è una statua raffigurante la sirena che è il simbolo di Varsavia, un simbolo di Varsavia, collocata nel punto centrale della piazza dove si trovava il primo municipio cittadino che fu demolito all'inizio dell'Ottocento. Poi ci sono diversi musei, su questa piazza sul lato nord c'è il museo storico e accanto il museo della letteratura.